La verità che andremo a dire oggi sarà veramente difficile da affrontare e quando io per la prima volta ne veni a conoscenza mi resi conto il motivo per la quale i miei obiettivi non li avevo ancora raggiunti Qua si sta parlando di un mindset che bisogna assolutamente avere in qualsiasi obiettivo e sto parlando proprio del be, do, have e oggi andiamo ad analizzarlo Ma prima, sigla! Ho iniziato a lavorare nel mondo del digital ormai tre anni e mezzo fa Il mio primo anno lo dedicai ad un business chiamato dropshipping E come funziona il dropshipping? Crea un e-commerce, all'interno dell'e-commerce inserisci dei prodotti per la maggior parte cinesi e fai fare tutta loro la parte della spedizione Tu devi solo pubblicizzare, creare e pubblicizzare il sito Ho fatto quell'attività per un anno intero dove per nove mesi ho ottenuto zero risultati Gli ultimi tre mi è andata alla grande Però cosa è successo? In quei ultimi tre mesi io ho fatto abbastanza soldini Il problema? Non ero la persona giusta per mantenere quella cifra Infatti la maggior parte dei soldi che ho fatto attraverso quell'attività li ho persi tutti Per il semplice fatto che non ero una persona adatta a quella tipologia di cifra Infatti si può ottenere un determinato risultato Si può raggiungere un determinato obiettivo se non si è la persona adatta Ma se non si è la persona adatta non lo si mantiene Infatti una cosa, un concetto fondamentale che ti deve entrare in testa è che prima bisogna essere Poi bisogna fare e poi bisogna avere Se si ha e non si è si perde tutto Non sto parlando solo per obiettivi monetari Ma sto parlando anche per esempio obiettivi dal punto di vista lavorativo Se una persona vuole diventare un calciatore professionista è fin dalla gioventù che deve comportarsi come se fosse già un calciatore professionista Quindi il sabato sera non deve andare a festa e fare festa e andare a letto tardi perché la domenica presto c'è la mattina Non deve fumarsi i cannoni, non deve drogarsi e comunque non deve bere tanto alcol Prima devi incarnare la persona giusta per meritare quella tipologia degli obiettivi Vi faccio un ulteriore esempio Se c'è un lavoratore dipendente che guadagna 3000 euro al mese e non riesce mai a mettersi dei soldi via Capito? Quella persona magari può essere quella tipologia di persona che ha 3000 euro Che però non sa mantenere e quindi li perde sempre e li sputtana sempre Quindi non è una persona da 3000 euro al mese Magari li fa ma li perde subito Infatti lo stesso concetto si applica a chi paradossalmente vince la lotteria Perché se io ho l'idea di diventare ricco e nella mia testa dico che per diventare ricco devo giocare schedine e giocare gratte e vinci Mi comporterò in quella maniera lì Magari io sono sculato, vinco il gratte e vinci, vinco un milione Mi faccio con la schedina una quota due quindi da un milione passa e la vinco Quindi da un milione passa due milioni Bene sono a posto Ma cosa succederà secondo voi? Semplicemente continuerà magari a produrre denaro Proverà a produrre denaro attraverso il gioco d'azzardo E in più non è quella persona che riesce a mantenere due milioni di euro E così nel giro di un mese si trova più povero di prima Infatti c'è stato anche uno studio dietro che parlava proprio che il 96% delle persone che vincono la lotteria Nel giro di pochi mesi in sostanza si ritrovavano più poveri di prima Quindi prima si è, poi si fa e poi si ha Il messaggio che ti voglio lasciare oggi è Capisci bene dove vuoi andare Capisci bene cosa devi fare Capisci soprattutto bene chi devi essere Perché se capisci chi devi essere sai cosa devi fare Comunque spero che questo video ti sia piaciuto, ci sia stato utile Ovviamente lascia like, vienimi a seguire su Instagram Crea ogni giorno troppo nuovo contenuto Entra nel canale Telegram E se vuoi iniziare a collaborare con me e a crescere a 360 gradi Scrivimi, protocollo su Instagram E iniziamo il lavoro insieme E iniziamo il lavoro insieme